Bentrovati, sono il dottor Michele Labianca, coordinatore della Task Force Coronavirus della Regione Basilicata. I dati riferiti all'11 marzo, diffusi dal bollettino della Regione Basilicata, indicano che dai laboratori presso strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate della Regione è stato processato un numero di 1.578 tamponi per un totale complessivo di 257.333 tamponi molecolari effettuati dall'inizio dell'epidemia, ai quali si è aggiunge un totale di 11.472 test antigenici rapidi effettuati alla data di rilevazione. Per quanto riguarda i test molecolari, le positività totali riscontrate sono state 144 e di queste 140 si riferiscono a soggetti residenti, una a un soggetto non residente ma domiciliato in Regione, tre a soggetti non residenti e in isolamento nelle rispettive Regioni. Il totale dei positivi nella giornata presa in esame vede una lieve prevalenza di soggetti di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile, questi ultimi con un'età media più alta di 47 anni rispetto ai soggetti di sesso maschile nei quali l'età media è pari a 44 anni. Tra i casi positivi si mantiene significativa al 21 la percentuale dei soggetti nella fascia d'età 0-20 anni, sempre più rappresentata al 59% la fascia d'età tra i 21 e 64 anni, mentre l'interessamento degli ultra 65 anni è pari al 20%. I principali indicatori per Covid-19 danno la seguente situazione. La percentuale di incremento dei nuovi casi nell'ultima settimana nella Regione si mantiene elevata e in ulteriore aumento al 6% rispetto al dato nazionale del 5%. La proporzione test positivi sul numero totale dei test effettuati che testimonia la circolazione del virus sul territorio regionale è pari all'8,9%. In sintesi, il numero dei casi nella Regione tende ad aumentare così come aumenta l'incidenza, cioè le nuove positività per Covid-19 per 100.000 abitanti riferita alle ultime due settimane che rimane alta, 310 casi positivi su 100.000 abitanti, comunque inferiore rispetto alla media nazionale pari a 470 casi positivi su 100.000 abitanti. E infine l'indice di contagio RT riferito agli ultimi sette giorni, pari a 1,16, è in fase di valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. Per quanto riguarda i casi positivi per Covid-19 nella Regione, 85 sono attribuiti alla provincia di Potenza e di questi 20 interessano il capoluogo. I rimanenti 65 sono distribuiti in 25 comuni della provincia. 55 positività sono attribuite alla provincia di Matera e di queste 15 interessano la città di Matera e le rimanenti 40 sono distribuite in 13 comuni della provincia. Anche per il bollettino odierno le positività sono dovute alla presenza di focolai sul territorio, segno del predominante coinvolgimento della popolazione generale. Il costante monitoraggio delle strutture da parte delle aziende sanitarie territorialmente competenti non segnala casi di positività per Covid-19 in nuove residenze sanitarie per anziani. Il totale dei ricoverati presso strutture ospedaliere lucane Covid dedicate sale nella giornata esaminata a 137 pazienti. Si mantiene invece costante il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva, pari complessivamente a 13 pazienti, 5 dei quali ricoverati a Potenza e 8 a Matera. Comunque nella regione il tasso d'occupazione dei posti letto, specie di quelli in terapia intensiva, rimane ancora al di sotto dei livelli di guardia. I guariti residenti nella giornata esaminata sono 122, portando il numero complessivo dei guariti a 12.672 soggetti. I positivi totali residenti sono 3.714, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 3.577. Prosegue la revisione degli ultimi dati menzionati da parte dei competenti servizi ospedalieri e territoriali. Nella giornata esaminata è stato registrato un decesso correlato a Covid-19 in un soggetto di 87 anni ricoverato presso l'ospedale San Carlo di Potenza. Il totale dei deceduti, alla data odierna, sale a 372 soggetti. Da verifica effettuata al 7 marzo, in ciascuno dei 131 comuni della regione, 86 sono risultati essere siedi di focolaio attivo per Covid-19, con un numero di almeno due positività, per un complessivo numero di soggetti positivi pari a 2.654. Di questi focolai, 61 sono situati nella provincia di Potenza e 25 in quella di Matera. In base a quanto descritto, la regione Basilicata è indicata ancora come regione a rischio moderato per Covid-19, sia per positività dei tamponi eseguiti che per ricoveri ospedalieri. Tuttavia la curva dei contagi è in aumento e potenzialmente vi sono possibilità che la situazione possa rapidamente evolvere verso un rapido aumento dei casi a livelli potenzialmente superiori alla situazione attuale. Perciò, nella fase attuale, in attesa che la campagna vaccinale immunizzi fasce crescenti di popolazione, è fondamentale continuare a mantenere un comportamento prudente e una drastica riduzione delle interazioni fisiche interpersonali e della mobilità, per cercare di arginare la tendenza all'aumento incontrollato dei casi positivi e il conseguente sovraccarico dei servizi sanitari. Ringraziandovi per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo intervento.